Ebboli è stato revocato il senso unico di marcia in via generale Gonzaga. Da questa mattina la rimozione della segnaletica e dei bidilli. Il tutto in concomitanza del mercato del sabato a Rione Paterno e l'inizio dei festeggiamenti per i santi medici Cosma e Damiano in programma per lunedì e martedì. La decisione del sindaco Mario Conte che in una nota dell'ente spiega La decisione del comandante Dure è stata assunta assolutamente dal punto di vista tecnico e sulla base di precise richieste dell'ASL e dei vigili del fuoco pervenute nei mesi scorsi e da ultimo nel mese di agosto. Si è trattato, come più volte spiegato, di una decisione tecnica ma non erano state valutate le diverse condizioni determinate in città dall'apertura delle scuole e dall'aumento del traffico, specie di sabato con la presenza del mercato nel Rione Paterno. Ed aggiunge, così il presidente della commissione Gian Maria scritta ed io stesso abbiamo chiesto ulteriori verifiche al tecnico incaricato, l'ingegnere Troisi, all'esito delle quali si è deciso con senso di responsabilità di revocare l'ordinanza. Ciò non toglie che bisognerà trovare il modo di migliorare l'intera viabilità cittadina e possibilmente un percorso di emergenza per i mezzi di soccorso. Soddisfatto anche il presidente scritta abbiamo chiesto le dovute verifiche e siamo giunti ad una decisione che va incontro alle richieste della cittadinanza con la quale ci confrontiamo tutti i giorni. Questo è lo spirito con cui affronteremo anche la rivisitazione complessiva del piano traffico. Damiano Cardiello, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha postato su Facebook La battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti senza tentennamenti è stata supportata da tanti cittadini e residenti. Dopo aver svelato la bufala degli ingorghi per le ambulanze, con gli atti alla mano abbiamo evidenziato che non vi erano motivi per mantenere questa scelta. Finalmente la revoca. Manca solo un passaggio, chiedere scusa a commercianti e residenti per i disagi subiti. Manca solo un passaggio, chiedere scusa a commercianti e residenti per i disagi subiti.